Come garante dei diritti e le persone private a libertà personale abbiamo avuto questo incontro oggi con la seconda commissione consigliare del Consiglio Comunale che fa seguito, faceva seguito a un precedente incontro in cui ho presentato lo schema della mia relazione per gli anni 2010-2011 come attività del garante. Si è trattato soprattutto di fare un po' il punto della situazione per quella che è l'attività, per quelle che possano essere le prospettive di lavoro e di intervento dell'amministrazione comunale nell'ambito di quella più ampia problematica che è legata all'esecuzione penitenziaria e alla situazione del penitenziario qui di Pisa del carcere Don Bosco. C'è stata la volontà da parte della commissione di collaborare chiaramente con il garante a individuare quelli che sono stati e che saranno le linee portanti della relazione. La volta scorsa, nel novembre scorso, avevo presentato una prima bozza del progetto, poi raccolto le indicazioni che sono state fornite dai consiglieri. Oggi ho presentato una sorta di schema definitivo che chiaramente fornerà la base per la discussione del prossimo Consiglio Comunale. Ritengo che sia opportuno che il Consiglio Comunale si occupi del carcere di Pisa. Questa è una richiesta che come garante ho fatto già da diversi anni proprio perché mi sembra il luogo dove la cittadinanza attraverso i suoi rappresentanti si deve esprimere su cosa il Comune può fare per la popolazione detenuta, per migliorare le possibilità di reinserimento dei detenuti una volta conclusa il percorso dell'esecuzione. Mi sembra anche opportuno, è un'idea che è venuta fuori nel corso dei lavori della Commissione, mi sembra anche opportuno verificare la possibilità di tenere successivamente poi un Consiglio Comunale straordinario nel carcere di Pisa, come è stato fatto anche in altre città, proprio per dare ai detenuti e alle detenute la sensazione di una effettiva attenzione e presenza della città attraverso il suo massimo organo rappresentativo all'interno della struttura penitenziaria. È chiaro che ci sono molte cose su cui si discuterà e spero che il Consiglio Comunale voglia discutere su quelli che possano essere gli spazi di intervento dell'amministrazione comunale e penso che sarebbe opportuno e sarebbe anche un segnale molto importante da lanciare non solo ai detenuti e alle detenute ma un po' in forse anche al mondo della politica, arrivare con una mozione unitaria, un ordine del giorno unitario votato da tutto il Consiglio che non si differenziasse quindi appunto su questi temi fra maggioranza e opposizione per individuare quegli ambiti di progetti e di proposte concrete su cui muoversi per migliorare le condizioni di vita dei detenuti e per far sì che quella situazione di lesione della dignità degli esseri umani che è stata messa in luce anche dal Presidente della Repubblica o in occasione dell'ultima visita del Papa al carcere di Roma per appunto fare in modo che si incominci a uscire da questa condizione di negazione di lesione della dignità dell'uomo e si incominci a ricostruire un percorso virtuoso per quanto riguarda l'esecuzione della pena. Grazie